Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul canale, buon martedì. Oggi, come potete vedere dagli albi che tengo in mano e dal titolo di questo video, torniamo finalmente a parlare di Zagor e analizziamo nello specifico l'ultima avventura che ha riguardato la serie regolare del personaggio. Io, come sapete, non sono solito parlare singolarmente degli albi che presentano delle storie suddivise su più numeri, mi piace discutere delle varie avventure una volta che queste sono terminate. Quindi aspetto a leggerle, insomma aspetto di avere la storia completa prima di leggerla perché altrimenti non mi ricorderei niente, dovrei rileggermi gli stessi albi più volte perché mi dimenticherei tutto quanto. Quindi parliamo oggi, finalmente, in occasione dell'uscita del numero 721, le scogliere del male, quindi l'ultimo tassello di questa avventura, parliamo oggi di questa storia che è iniziata tre mesi fa, quindi con il numero 719 intitolato I Sette Vichinghi. Dunque, ci troviamo a discutere sugli albi 719, 720 e 721 della serie Zagor Zenith. Voi sapete che c'è questa ormai celeberrima differenza di 51 numeri tra la serie Zenith e le successive ristampe del personaggio che sono partite dal numero 1. Sulla serie Zenith, quindi questa, il personaggio di Zagor fece la sua prima apparizione sul 52esimo albo. Da qui, insomma, la differenza. Questi numeri, infatti, corrispondono agli albi che vanno dal 668 al 670 della serie Zagor Gigante. Per quanto riguarda questa avventura abbiamo Jacopo Rauk, autore del soggetto e della sceneggiatura, mentre invece Gianni Sedioli e Marco Verni, autori dei disegni. E, beh, iniziamo, insomma, descrivendo un po' così la trama. Torna in questa avventura un personaggio storico della serie, ovvero Re Guthrum, che potete vedere in questa copertina, insomma, presente in questa copertina di Piccinelli, ma anche in quest'altra copertina di Piccinelli. E se riesco un po' a trovare qualche immagine, ve lo posso anche far vedere, rappresentato da Gianni Sedioli e Marco Verni. Sinceramente non so chi abbia disegnato cosa, perché non è specificato nelle introduzioni, nei redazionali. Comunque, ecco, anche in azione, diciamo, all'interno dell'album, dell'albo Re Guthrum. Quindi, Re Guthrum, che è questo capo di questa scalcinata banda di vichinghi che si era già incontrata con Zagor in alcune precedenti avventure. In questa storia, Re Guthrum ritorna a chiedere aiuto a Zagor e Cico per ritrovare un ex membro della loro banda, che si è voltato al male dopo aver assassinato Ragnar, il sacerdote, diciamo, della tribù di Re Guthrum e averne carpito i segreti, i sortileggi, le magie. Questo individuo sta utilizzando queste abilità, diciamo, per scopi negativi e quindi Re Guthrum, Zagor e tutta l'allegra combricola parte alla ricerca di questo di questo malvagio personaggio. Aiutati da un giovane sacerdote, anch'esso apprendista di Ragnar, che tramite le sue visioni riesce un po' ad indirizzare il gruppo sulle tracce, appunto, di questo di questo personaggio. Questa è un po' a grandirine la trama. Poi, ovviamente, nel corso dei tre albi accadranno alcune cose, ci sarà qualche colpo di scena, qualche qualche tradimento, qualche scontro, qualche, insomma, ci saranno delle situazioni che ovviamente io non vi spoilero, perché sennò tanto vale che vi racconto io la storia e così evitate di comprare l'albo, invece io vi do solo una piccola infarinatura dell'avventura. Dunque, che cosa dire su questa storia? È una storia che conferma un po' per quello che è il mio pensiero le mie lamentele sul personaggio. Insomma, qui ci troviamo di fronte all'ennesimo ritorno di un vecchio personaggio della serie di Zagor, per cui non c'è nessuna novità. Non c'è novità né dal punto di vista della trama, perché non solo torna Regutrum, non solo tornano la sua banda di vichinghi, ma addirittura si scoprirà poi nel corso della serie che si arriverà di fronte a delle dinamiche, a delle situazioni che si erano già viste in alcune precedenti avventure riguardanti sempre Regutrum, ma anche i disegni di Sedioli e Verni ricalcano in tutto e per tutto il passato. Quindi sono disegni che, come potete vedere, adesso io vi mostro qualche tavola si rifanno in maniera veramente incredibile ai disegni, allo stile più che altro di Gallienoferri. E qui sembra addirittura che Gallienoferri sia resuscitato e si sia messo a ridisegnare Zagor, perché i volti sono proprio quelli di Ferri. Qui c'è veramente un volere assomigliare, e guardate questo Zagor, un volere assomigliare a tutti i costi allo stile di Ferri. Per cui è uno Zagor effetto nostalgia al 100%, perché abbiamo una storia che riprende un vecchio personaggio, delle vecchie situazioni, delle vecchie dinamiche, le ripercorre in tutto e per tutto, con dei disegni anche uguali allo stile che era di Ferri. Insomma, guardate Cico, guardate Zagor, questo è Gallienoferri praticamente. Qui sono Gianni Sedioli e Marco Verni che disegnano, ma fondamentalmente è come se disegnasse Gallienoferri. Questi albi sono usciti in questi ultimi mesi, ma è come fare un tuffo nel passato, è come aver acquistato direttamente dagli anni 70 questi albi di Zagor. Sembra un po' di aver utilizzato la macchina del tempo per andare in edicola, piuttosto che una semplice automobile. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che è tutto carino, è tutto ben fatto, la storia scorre bene, i disegni sono belli, però è un circolo chiuso. Questi sono tre albi, questa è una storia di Zagor che può essere apprezzata solo ed esclusivamente dai vecchi lettori del personaggio, dai nostalgici, da chi negli anni 70 comprava Zagor da ragazzino e per, diciamo, rimembrare quei tempi spensierati si compra uno Zagor e una storia uguale in tutto e per tutto a quella appunto di quegli anni, di quei tempi, ma io non riesco a capire, magari spiegatemelo voi, come un giovane o comunque un neofita si possa avvicinare al personaggio con queste storie, con questi disegni. Io francamente non lo so. Oltretutto il personaggio di Ray Guthrum ritorna ma non ci viene fornita una panoramica sul personaggio. Ci vengono soltanto dati dei riferimenti, quindi ci vengono citate vecchie avventure del personaggio di Zagor, ci viene citato il Color Zagor numero 2, mi pare una cosa del genere, intitolato tra l'altro Il ritorno di Guthrum, quindi anche in quella vecchia storia era comunque già un ritorno quella vecchia storia, ma non ci viene fatto una panoramica sul personaggio di Ray Guthrum. Non ci viene detto, non ci viene spiegato, non ci viene ricordato chi è, da dove arriva, perché ha incontrato Zagor, perché è alla banda di questi vichinghi, come mai è un re, che cosa ha fatto per diventare re. Insomma, è un personaggio molto bidimensionale o perlomeno ci viene presentato così, quindi non c'è spessore per quanto riguarda il personaggio di Ray Guthrum. È un personaggio che un po' presenta i soliti cliché, magari anche un po' comici, del vichingo, però non è che ne sappiamo così tanto di questo personaggio, leggendo questa avventura. L'unica cosa che ci viene data è un riferimento a delle vecchie storie di Zagor, che però non sono neanche così immediate da comprare, da recuperarsi, per cui è un personaggio molto bidimensionale. Come è bidimensionale l'antagonista di questa avventura? Insomma, i suoi intenti sono piuttosto banali, piuttosto ingenuotti, per cui è un cattivo che vale quel che vale. Per cui, non lo so, io questa avventura, sì, è carina, intrattiene, va bene, mezz'ora, 40 minuti, ok? Però non rimane assolutamente niente per quello che ne penso. I disegni, torno a ripeterlo, sono molto belli, ma sono disegni che, non lo so, forse mi sfugge anche un po' il senso di questi disegni. È un voler attaccarsi a tutti i costi al passato. Ripeto, sono disegni molto belli, molto ben fatti, c'è anche una bella inchiostrazione, come potete vedere, guardate le ombre su questo volto, ma non lo so, ha senso tenere il personaggio di Zagor così ancorato al passato? Forse ha senso, perché magari molti giovani non lo leggono a prescindere, molti giovani non entrano neppure in edicola, molti giovani magari non sanno neppure che cosa siano le edicole, però, non lo so, a me, io per esempio il crossover Zagor Flash mi era piaciuto perché presentava dei disegni, presentava uno Zagor più moderno. Io non dico di snaturare il personaggio, per carità, per esempio, vabbè, in questa avventura è presente Cico, ovviamente, molti dicono che Cico non dovrebbe più esserci nelle storie di Zagor, che si dovrebbe togliere Cico, ma perché? Io dico, Cico è così tanto simpatico, rende il tutto più divertente, io ammetto che se Cico non ci fosse, molte storie di Zagor mi annoierebbero, quindi io sono un fan, un ammiratore di Cico, lo richiedo espressamente, quindi io non dico di stravolgere il personaggio di Zagor, ma semplicemente di renderlo più attuale, più moderno e quindi più appetibile anche ad eventuali nuovi lettori, giovani o meno che siano, in ogni caso, renderlo più abbordabile ai neofiti. Qui, francamente, ci vedo tutto l'opposto. Io non consiglierei mai un albo del genere, una storia del genere, dei disegni del genere ad uno che non ha mai letto Zagor, perché non so quanto lo potrebbe apprezzare, quanto ci potrebbe capire. Detto questo, parliamo delle copertine, le copertine sono di Alessandro Piccinelli, sono copertine secondo me bellissime, veramente molto belle, Piccinelli si conferma un disegnatore veramente incredibile, guardate quanto sono dettagliate queste copertine, queste illustrazioni, sono veramente molto belle. Io spero che prima o poi la Bonelli pubblichi dei poster fatti bene di alcune delle loro copertine, perché insomma i copertinisti della Sergio Bonelli Editore sono veramente fantastici e tutti i mesi riescono a tirarci fuori delle copertine meravigliose. Qui ho la copertina del numero 720, del numero celebrativo di Zagor, la copertina uscita lo scorso mese per celebrare l'ottantennale della casa editrice, mese nel quale, scusate, come sapete le copertine delle principali testate Bonelli hanno presentato la stessa identica situazione, ovvero il personaggio, il protagonista, il titolare della testata in primo piano, ripreso in una sua posa tipica con lo sfondo diciamo in ciano, lo sfondo in ciano dietro, riproducente l'abitata naturale e poi questa tinta unita, diversa per ogni testata, nel caso di Zagor la tinta verde. A proposito delle copertine di Piccinelli, so che qualcuno si è lamentato della differenza che tutte le volte viene, insomma, apportata tra la copertina e lo Zagor che vediamo raffigurato internamente. In sintesi, qualcuno ha detto, le copertine di Zagor raffigurano uno Zagor riprodotto in un determinato modo, quindi con lo stile di Piccinelli e poi, aprendo l'albo, ci troviamo uno Zagor disegnato in maniera completamente differente. Beh, io sì, può essere, forse può essere, è vero, forse c'è una differenza di stile fra la copertina e quello che è riprodotto all'interno. Io, francamente, però non ci, come posso dire, non mi pesa, ecco, questa particolarità. Può essere, può essere vero, quindi può essere che magari chi sottolinea questa particolarità, chi lamenta, ecco, questa particolarità abbia ragione. Io, francamente, non ci do troppo peso, però può essere. Magari a me non dà fastidio, ma a qualcun altro dà più pensiero. Ultima cosa che volevo segnalarvi, beh, parlando di qualche così dato tecnico, il numero 719, i Sette Vichinghi, costava ancora 3,90, bei tempi, quando i fumetti Bonelli costavano 3,90 e ovviamente non presentava né nella seconda ricopertina. e né nella terza di copertina le innovazioni che si sono iniziato a vedere dal mese successivo. Quindi, questi due albi di Zagor presentano una copertina rinforzata, la seconda e la terza di copertina a colori e il prezzo maggiorato a 4,40€. In regalo le medaglie di Zagor, come potete vedere qui, la medaglia di Zagor, molto bella, io non riesco mai a mettervela a fuoco, però, insomma, credo che l'abbiate vista, quella magari la possedete già. E poi, la medaglia di Cico, che io non ho ancora aperto, non ho ancora avuto occasione di aprire, ed è una una medaglia fatta molto bene, devo dire. Sono carine, insomma, mi sono piaciute sia quella di Cico che quella di Zagor. Quella di Cico forse mi piace ancora di più di quella di Zagor. È fatto veramente molto bene Cico e io credo che Cico sia anche più difficile da riprodurre rispetto a Zagor. E qui è stato fatto veramente un bel lavoro su Cico. L'ultima cosa che vi volevo segnalare è la terza di copertina del numero in edicola da stamattina, che presenta l'anticipazione del prossimo numero di Zagor, che vedremo a partire dal 3 giugno, che è il numero del sessantennale del personaggio. Quindi è il numero celebrativo del sessantennale di Zagor. La novità è che, oltre al numero in questione, ovviamente, avremo in omaggio anche la ristampa anastatica del primo albetto a striscia del personaggio. E come potete vedere, la copertina di Alessandro Piccinelli del prossimo numero di Zagor, che sarà in edicola dal 2 giugno, citerà, diciamo, la copertina del primo leggendario albetto a striscia, che era stata operata da Galieno Ferri. Ci viene data una breve descrizione di quello che andremo poi a leggere sul prossimo numero di Zagor. E allora ci viene scritto Zagor compirà sessant'anni, li festeggeremo insieme con una storia celebrativa che riporterà l'eroe in uno dei luoghi che hanno segnato il suo destino. Quindi ci sarà l'ennesimo ritorno. L'ennesimo ritorno, quanto pare il ritorno, questa volta, ad un luogo. Quindi ritornerà un determinato luogo che è stato fondamentale per il personaggio e quindi non ritorneranno, almeno per la prossima avventura, che sembra essere autoconclusiva, come ci riporta il redazionale di Moreno Burattini, che funge da introduzione all'albo, dicevo ci sarà un ritorno a un luogo anziché il ritorno di un personaggio. Ma sempre ritorni saranno e a me questi ritorni non mi stanno simpatici. Ultima cosa che vi segnalo, in edicola dal 20 maggio, come viene riportato sulla quarta di copertina dell'ultimo albo uscito questa mattina in edicola, arriverà lo Zagor più, che altro non sarebbe che il Maxi Zagor che cambia formula. Quindi anziché presentare 288-320 pagine o quello che è, ed essere quadrimestrale al prezzo di 7,90 che sarebbero diventati 8,90 dopo gli aumenti, il Maxi Zagor riduce la fogliazione, quindi sarà 192 pagine, quindi la stessa identica fogliazione del Dear and Dog Old Boy, costerà 6,90 euro come l'Old Boy e si intitolerà Zagor più e questa sarà la prima copertina. Il numero in edicola dal 20 maggio si intitolerà le storie di molti occhi, quindi si andrà a riagganciare alla serie dei racconti di Darkwood e presenterà in omaggio la medaglia di Jerry Drake in arte Mr. No. Io questo volume ho deciso di non acquistarlo perché, come ho detto in un precedente video, intendo tagliare tutti gli speciali di Zagor perché, francamente, negli ultimi tempi non mi hanno soddisfatto. Io concludo qui la mia chiacchierata sul personaggio di Zagor, vi ringrazio per l'ascolto, vi domando se avete anche voi letto questa storia, come vi è piaciuta, se vi ha intrigato oppure non vi ha soddisfatto. Per il resto vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci rivediamo a voi dicendo al prossimo video. Ciao a tutti!